Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Prima di iniziare vi informo che dal momento in cui pubblicherò il video fino alla fine di luglio 2023 è attiva la promozione per la lettura semestrale, quindi sarà una lettura diciamo generale, quindi come nel video delle previsioni semestrali generali che è già uscito lo trovate nelle playlist del canale nell'oroscopo annuale stagionale, quindi sarà un video diciamo generico e ci sarà l'approfondimento su una linea vostra scelta, quindi o sul settore spirituale, sul settore delle relazioni e gli affetti oppure sul lavoro e l'economia. Se volete avere maggiori informazioni mi potete contattare via mail, la mail la trovate anche sotto nella descrizione dove trovate anche un video che è una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi nel caso alcuni messaggi non vi risuonassero o nel caso in cui semplicemente voleste completare il vostro messaggio. Bene, partiamo con un fante di pentacoli, il 7 di bastoni, il 10 di pentacoli, un 6 di coppe e un 6 di spade al contrario. Dunque ragazzi, il fante di pentacoli è sempre un riferimento a qualche nuovo percorso, qualche nuova attitudine magari, qualche potrebbe essere una nuova idea o un nuovo progetto che secondo me potrebbe arrivare a livello familiare. Ora, potrebbe essere la famiglia da voi creata o potrebbe essere la vostra famiglia di origine? Diciamo che ho più la sensazione che, beh no ma dipende, sì potrebbe essere in tutti e due i casi una collaborazione o un progetto, un'idea anche tra per esempio genitori e figli, piuttosto che tra magari anche parenti, cugini o cose per lo stile, insomma. Non vedo tanto gli amici, è più una questione di parenti, insomma. Bene, andiamo poi con il 7 di bastoni, il 7 di bastoni è una carta che parla di qualcuno che si sta difendendo, quindi probabilmente può essere dovuto a questo nuovo progetto, a questa nuova idea, a questa voglia di, magari per qualcuno anche di avere figli, nel caso siete in coppia, è un desiderio di allargare la famiglia, anche magari di portare a ufficializzazione la vostra relazione, però è come se ci fosse, tenete presente che qui avete anche l'appeso, che è una carta che denota una certa lentezza, se non addirittura una staticità in questo caso, come se ci fossero delle questioni qui di cui vi dovete occupare in questa seconda parte dell'anno, che vi distrarranno un pochettino, diciamo dall'amore, dal rapporto di coppia in sé, se vogliamo, poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarotti. Andiamo poi con questo sei di coppe e il sei di spade al contrario, qui ragazzi ho come la sensazione che potrebbe esserci un riavvicinamento da parte di qualcuno che non vedete veramente da tanto tempo, però andiamo direttamente a vedere con i mini tarotti, abbiamo un sei di bastoni, la carta della luna e di nuovo il sei di coppe, un'energia che si ripete. Allora sì, fortemente, potrebbe essere ragazzi qualche figlio per qualcuno che ritorna magari da lontano o che rivedete dopo molto tempo, potrebbe essere un cugino, è una questione di famiglia, questo sì, lo sento chiaro. Potrebbe anche essere un fratello per qualcuno. E vedo che c'è questo nuovo tipo di idea, progetto, percorso, lavoro, programma, insomma, che potenzialmente potrebbe svilupparsi. E diciamo che non è una cosa nuova, può essere semplicemente un progetto che viene ripescato da delle vecchie idee. Andiamo a vedere 7 di bastoni, 10 di pentacoli e 9 di coppe. Ragazzi, come è la sensazione che starete cercando in tutti i modi di creare un'unione, una stabilità familiare, un affiatamento familiare, però in realtà quello che vi manca è un affiatamento di coppia, se siete in coppia. Se siete single, ho come la sensazione che siete più verso l'appeso che verso il bagatto, cioè siete lì fermi, statici, in osservazione, mentre l'energia del bagatto è più un'energia di azione, di fare qualcosa. E qui, sì, state facendo qualcosa, vi state difendendo fondamentalmente, però è più un stare fermi e parare i colpi che arrivano, piuttosto che prendere una direzione ed andare avanti in una certa direzione. Andiamo a vedere i 10 di pentacoli. Abbiamo un fante di spade, al contrario, un 8 di pentacoli e un 2 di bastoni. Ragazzi, io sento ancora di più che lavoro, famiglia o affetti si fonderanno. E' come se ci fosse un'unione di gruppo per raggiungere un determinato obiettivo futuro. Può essere, ripeto, una collaborazione con vostro figlio, una collaborazione con un cugino, con un fratello. Soprattutto, ragazzi, se questo cugino, questo fratello, ipotesi, ha appena concluso un percorso di studi, ha appena acquisito un titolo, è come se ci fosse una nuova prospettiva davanti, sulla quale collaborare. Invece, per altre persone, la questione qui è che c'è una questione legata ai figli, legata all'ampliare la famiglia. E ho come la sensazione che molte persone stiano un pochettino prendendo tempo su questo tipo di argomento. Andiamo a vedere se di coppe. Tre di bastoni e re di bastoni. Ragazzi, qui davvero, questo re di bastoni potrebbe essere un'amicizia che non vedete da tanto tempo, una conoscenza, magari una persona di riferimento, o appunto, come vi dicevo prima, questo cugino, questo fratello. Può essere una persona che arriva da lontano fisicamente. Vi ripeto, se fosse per esempio il discorso che abbiamo fatto prima del percorso di studi, magari una persona che per questioni di studio, magari anche di lavoro, perché no, magari ha vissuto all'estero per un periodo, o comunque lontano da voi, ed è come se stesse tornando. Andiamo a vedere il 6 di spade. Fante di bastoni e 2 di spade. Allora ragazzi, devo dire che qui ci potrebbe essere un qualche tipo di scelta da dover affrontare con questo 2 di spade. Ho come la sensazione che vi dicano di mantenere il focus. Quando compare la carta del mago, vi dice che avete tutte le potenzialità, gli strumenti, le conoscenze per creare il tipo di realtà che voi volete nella vostra vita. In questo senso è un po' come se vi dicessero di non farvi distrarre troppo da questo amico, cugino, fratello, sorella, che potrebbe ritornare, che potrebbe riapparire, ma di mantenere il focus su quello che è il vostro progetto. Se siete single, ragazzi, qui ho come la sensazione che il ritorno di questa persona, questa nuova attività, progetto, possa portarvi a conoscere questo re di bastoni, vi dirò. Allora, il consiglio è di, come vi posso dire, imparare a difendervi. Tenete presente che quando c'è un set di bastoni è come se ci fossero delle distrazioni, degli attacchi esterni, ok? E qui si tratta di difendere il proprio spazio personale, di lottare per difendere il proprio spazio personale, per difendere la propria zona di comfort, mi verrebbe da dire. E di conseguenza, quando si è un po' in questo atteggiamento, si tende ad essere sulla difensiva un po' sempre. Quindi ho come la sensazione che qui ci sia un consiglio a lasciare andare alcune dinamiche mentali con questo sei di spade al contrario. Io vi dirò come la sensazione che entri una persona con la quale... Allora, se la persona è nuova, perché potrebbe essere una persona nuova che magari conoscete durante un viaggio o con la quale appunto inizierete questo tipo di progetto lavorativo, può anche essere un progetto abitativo, non deve essere un progetto. Ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Se così fosse, considerato che c'è un sei di coppe, per molte persone potrebbe veramente essere una persona con la quale si sviluppa un sentimento profondo, un sentimento puro, un sentimento genuino, pulito, mi viene da dire. Potrebbe anche essere una persona che vi scatena un certo tipo di chimica, ve lo dico. Però, ecco, se invece siete già in coppe potrebbe essere appunto un fratello o un cugino che ritorna dopo molto tempo, ma il punto è non fatevi prendere troppo rapidamente dall'entusiasmo, mantenete i piedi per terra. Che comunque avendo il due di spade, al contrario, qui qualche cosa non si vede. Tenete presente che all'inizio avevate anche la luna, quindi come se ci fossero delle proiezioni che potrebbero venire a galla, o delle questioni un po' scomode che potrebbero venire a galla. Considerato che il 6 di coppe si ripete due volte, ragazzi, vi dico che fortemente potrebbe essere un cugino lontano o un amico di famiglia anche, ipotesi, che non si vede da molto tempo, che potrebbe in qualche modo influire in modo genuino nel prossimo semestre. Wow! Ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi posso dire. Comunque è come se per molte persone gli affetti familiari, più familiari che di coppia, diciamo si fondessero con quello che sono le situazioni lavorative. Andiamo a vedere un oracolo. Allora, è una carta numero 31, ragazzi. Questa carta vi parla un po' di quello che è la sacralità delle cose semplici. Vi parla di pulizia, vi parla di pozioni incantate. È un po' come se facesse riferimento al fare chimica con magari le erbe, con il cibo, con, fatemi spiegare che cosa intendo, tipo che nutrirsi secondo un'alimentazione di tipo macrobiotico vuol dire fare una certa chimica con il corpo, perché si va a lavorare su determinati aspetti a livello chimico, proprio del corpo fisico. C'è anche la rosa rossa, che parla comunque di passione, di amore. E poi, è come, guardate, ci sono dei fiori e dei frutti, è proprio la sensazione che parli di tisane, di infusi anche, di fatti anche quelle che sono le pozioni, si potrebbero, si bevono. Ok, e... Carta numero 3. Allora, fa vedere degli alberi, ragazzi, che stanno mettendo le radici, si stanno ampliando con le radici. E vi dice di cercare la vostra sicurezza. C'è anche un riferimento all'eremita, è come se dovesse cercare la sicurezza dentro di voi. Mantenete il focus, come esattamente dicevamo qui. Se siete single, ragazzi, un messaggio che mi arriva per la carta numero 31 è di usare essenze floreali come profumi. Quindi magari proprio di rosa, visto che qui abbiamo... menziona proprio la rosa. Ci sono anche degli agrumi, gli agrumi sono energizzanti comunque, quindi magari se vi sentite un po' stanchi, un po' spossati, potete, diciamo attraverso l'aromoterapia, utilizzare queste essenze agrumate. Un'altra cosa che vi potrebbe far bene in questo secondo semestre è prendere, diciamo, tutto il sole che potete. Abbiamo espansione e stabilità. E anche nei tarocchi, quando c'è l'arcano del sole, indica espansione, prosperità, crescita, protezione. Anche qui abbiamo sicurezza. Ed è una carta di energia maschile, esattamente come il bagatto numero 1, una carta di azione. Wow. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn, che a me piacciono sempre molto, per concludere la lettura. Ragazzi, io non vi vedo male, anzi, nuove prospettive in famiglia, nuovi progetti, per qualcuno si tratta di... vi dirò, o di qualche bebè che arriva, non necessariamente nella vostra di coppia, ma intorno a voi. Nella vostra famiglia potrebbe arrivare qualche bambino. possibili parenteli lontane o amicizie di famiglia che rientrano nella vostra vita, che potrebbero essere veramente degli amici puliti, o comunque delle conoscenze delle relazioni pulite. Andiamo a vedere. Ancora una meditazione. Una frase su cui meditare. Non so se lo sapete, ma queste carte, sono oracoli, si chiamano le 101 meditazioni di Findorn, e sono messaggi canalizzati, sono messaggi della fonte, dell'universo di Dio. Voi comunque potete sostituire la parola Dio con universo, fonte o quello che credete, insomma. Mi venne mostrata un'autostrada piena di traffico, con le macchine che si muovevano veloci in entrambe le direzioni. Trasportavano persone che non avevano il tempo di guardarsi attorno, indaffarate come erano a raggiungere la loro destinazione. Poi mi venne mostrato un viottolo di campagna, immerso nella pace e nella bellezza degli arbusti in fiore, con gli uccelli e i piccoli animali che si muovevano nel sottobosco. E sentì Dio in ogni cosa, ed una grande pace, una grande quiete, mi colmarono il cuore. Udì queste parole. Inizia ogni giornata nella mia pace e nel mio silenzio. Allora potrai continuare e farai fronte in pace perfetta e con gioia a tutto quanto questo giorno ha in serbo per te. Comincia da oggi. Wow, mi viene un po' in mente l'iniziare la giornata meditando proprio. Poi abbiamo La fede è vuota senza le opere. Vivi e dimostra la tua fede sicché tutti possano vedere cos'è davvero importante per te. Quanto si rinforza quando la metti in pratica. Dapprima in circostanze determinate e poi a poco a poco in ogni aspetto della tua vita. Questa frase è un po' come dire bisogna avere fede in quello che l'universo dà ma bisogna anche fare per ottenere quello che l'universo vuole. E qui risente un po' l'energia del bagatto. Ragazzi, azione. La fede senza azione è morta. Quindi è proprio una questione di aver fiducia in quello che vi prospetta la vita. La vita senza l'amore è come un deserto senza acqua. Arida, secca, incapace di produrre alcunché di vivo. Quindi mantieni aperto il cuore perché l'amore fluisca. Qualsiasi cosa avvenga. Che la tua vita sia vitale fuoriera di altra vita e di altra vita ancora. Wow. Anche qui sento la nascita, il sole, la crescita. Tenete presente che questa carta significa benedizione di Banyan. Ok? Quindi è come appunto se fosse una nuova nascita. Ragazzi, potrebbero esserci dei battesimi con questo dieci di pentacoli, vi dirò. Nel prossimo semestre. Cari amici del toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo semestre. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Se volete supportare attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che le fasce dell'abbonamento sono due. La fascia più bassa è semplicemente per sostenere il canale mentre la fascia di prezzo più alta vi dà diritto ad accedere ai video di crescita spirituale e personale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Ciao! Ciao!